Buonasera dopo un po' cominciamo con i saluti Buonasera dopo un po' questa mattina Mangia i saluti tranquilli Mangia il caffè Mangia la sigaretta Mamma E quando è giunto la sua numeria Quando è giunto la sua numeria Il carbone Tutti quanti Rosario e bambù Non mi puoi una fotografia 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 Ah, buonasera Tutto a posto? Sì, sì Ma è inizio stamattina Tutto quanti Buonasera Facciamo la fotografia Tutto quanti facciamo la fotografia Tutto quanti facciamo la fotografia Buf buf Io ho fatto Ho fatto un po' buf La fotografia Ho fatto tutto quanti Ma tutti quanti hanno buf buf E quando mi dico buf buf Non puoi venire sotto Salama, salama Ho salama Ho salama Ho salami Ho salami Ho salami Che mi dico buf Ho dato un'aiuto Tu mi dico 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 Stamattina Mi dico Salama Ho giunto la poteca Ho giunto la fai spesa Ehi Rosaria Salamore Buf buf Amore mio Tutto a poteca Che stai facendo? Io Sto facendo una diretta Eh bravo Un'amorata Trovate già Oh cari Non sei tu un'amorata mio Sara Kate Kate No no Ma stamattina O se che mi dico Cosa c'è Che dici Stammattina 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 Ci dico Tutto quando Tutto quando Tutto quando Ho giunto la fai Il capo Lo sanno il bambu Lo sanno il bambu E capite? Sarà Già stai domandando No I pe... Famoso stai domandando E' bello E' bello E' famosa Ma no Salaam Ma te trovi Solo un'amorata Te trovi Ah ma Io te dici Salaam Si tu Cuore Salaam 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 Tutto il Tutto il Beccarà Marino Comunque tutta la capitale Salaam 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 Sono felice che ho fatto la diretta con te. Grazie, ma anche a me mi fa piacere. Eh, per un merito tuoi ieri siamo divertiti. Dai, dai, dai. Non ci ho capito. Ah, ma per un merito tuoi ieri siamo divertiti. Ah, che scopo. Capito, parli di una cosa. Diversi, non piangere. È normale, è normale. Diversi, di amore. Diversi, divertiti. Diversiti. Diversiti. Nella vita. Se non ti diverti, non sei nessuno. Che senso cominciare a divertire? Un punto ti diverti. Vai a ballare con gli amici tuoi. Però non c'è tuo regolamento. Ma è normale, è normale. Eh, è piccola. Però quando vai ballare, però dici a tutti i tuoi amici. Seguite Rosario e Pobu. Sì, sì. Dopo ho messo la storia e dico, andate a seguire tutti Rosario e Pobu. Ok? Grande amore. Meno male. Mamma mia, vuoi fare un balletto? Oh, voglio ballare? Eh? Ti mani, questo passo? Questo vuoi sapere di più? Lavori. Amore. Senti. Amore. Senti. Amore. Ti senti? Ti senti? Ti senti? Lavori? No non lavoro. Ah, io vorrei fare un diretto con lei per divertirmi perchè lo so che tu facessi trappare un sorriso a tutti. e sono contento. Mi fa piacere. Io apposta faccio. Ah diretto, buon capitano. La vita ti devi sorridere. Ma è normale. Ossino che la fai fare? La fai fare solo per musciare la gente. Io mi diverto pure. Riso, mi diverti con i miei amici. Fai anche tutti quei divertiti. Fa come me. Divertiti. Non pensi a nessuno. Se pensi a l'altro fai mai poco. Fai bene, fai bene. Ma ieri io ho detto accettami perché siamo qui la Lucca, non ti faccio vedere. E perché non ci possiamo vedere? Che pensi a sai? No, ho detto. Io ho un'autore tecnico, io sono un'autore annunziata. Tu sei un'autore tecnico, tu sei un'autore. Ah, buon appetito, veniamo al tuo. Sì, devi ritrovare tanto il mio cognato a me. Tu sei un'autore annunziata. Tu sei un'autore annunziata. Sì, è un'autore annunziata. Sì, è un'autore annunziata. Allora, ti fa piacere che ho parlato con il bambù? Sì, è normale, è normale. E chi è che ti fa piacere parlato con il bambù? Tutto bambù. Bambù bambù. Bambù bambù. Bambù bambù. Bambù bambù. Ogni video che fai, ogni TikTok che fai, ma mi fai strappare un sorriso che nessuno mi fa strappare. E mi fa piacere. Perché tanto pure, non ho visto però che hanno vent'anni. Però io quando vedo a lui come guardarsi la pizza. È normale che mi hanno detto che hai 39 anni, però… Sì, sì te ne ne va. Ma te la porti bene. Ma ragazza qui tu va? Te la porti bene. Grazie. Che bene parce 40 anni. Moi faccio 25. No, lui sei vecchio, che la mamma deve meno 40 anni, mia madre. Eh, perché anche tua mamma deve meno 40 anni. Sì, è meno 43. Oh, però poi c'è il portobuo, o no? Sì, poi ti vado a trovare, non ti preoccupare. Oppure vieni tu a trovare a me? Non ci sono problemi. Io se passando tutto il greco ti vengo a trovare, perché che mi lascio un numero di telefono e ti vengo a trovare. A disposizione, a mia mamma ci fa piacere. Va bene, anche a me se lo dici. Sì, dopo ce lo dico. E poi saluto la mamma. Quanto abiti siete? Noi siamo quattro. Secondo me hai due femmine e due maschi? No, una femmina e tre maschi. Ma devi portare la vita di lui, no? Ma tu sei venato a rubire, che ha rubato una tua rubrica. Ha rubato una tua rubrica. Se tu vieni attore del greco, ha rubato una tua rubrica. Ah! 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 Ma che l'ho bella! Il... Nel ruolo, ha rubato una rubrica. Ha rubato una testa in armare! Ha rubato! Eh, lo so, lo so. Ah, a paposta! Ha rubato una testa in armare! C'hai detto? Un ruolo, il ruolo, il ruolo. No! Comunque voglio sapere una cosa a te. Quando anni sei? Io? Faccio tredici ora. Non ci capisci? Ora faccio tredici. Ah, complimenti. E calma sentiamo il figlio a me. Sì, anche tu. Ma è normale. Sì, però non diventate avvicino, però sei di una vostra, un bambino carissimo, bravo e con la mamma e con il papà. Grazie, grazie. E portate rispetto con i tuoi fratelli, con i tuoi genitori. Eh, però devono portare pure rispetto. Eh, aspetta. Ora parliamo con i tuoi fratelli. E secondo te, se tu ti porti rispetto a loro... Loro mi portino, però mi rispetta. È normale. Così deve essere. Secondo te, se tu chiedi un errore a tua mamma e mi dai il errore, mamma te lo diamo. Ma è normale. Tu quanti figli hai? La conosco, mi chiediamo. Matteo. È tutta la vita mia. Uno? E tre. Ma hai solo uno? Hai solo un figlio? Sì, sì, ti hanno andato. Ah, tu hai venti anni. È grande. Però hai casco una patatezza media. Sì, ma che scuola fa? Niente. Ma hai solo una patatezza media. È casco una patatezza media. Perché è finito. Sì. Ah, che scuola fa? Ah, senti. Ma c'è un po' che scuola hai? Dimmi, dimmi. C'è un po' che scuola hai? Sì, fai un po' che scuola. Ah, no. Sì, non mi riesce a dire. Non lo sai chiamare. Ma è normale. Perché mia nonna lo sai chiamare? Non mi riesce a dire. Ma hai capito? Non mi riesce a dire che mia nonna lo sai chiamare. Pure la volta mi sbaglio. Perché sto dubbando. Ok? Ah, però non è dove? Ah, non ho niente, non siamo niente. Inizio, non ho niente. Ah, è il TikTok che fai. Sì, lo faccio. Lo faccio il TikTok. Lo faccio. Ehi, pare, pare, questo è diventato. Ma pure se non sei famoso sempre è uguale per me. Come ti vedi famoso? Sì, lo so. Che mi vuoi dire? Sì, dimmi, dimmi. Mi ha mangiato, mia nonna ha cucinato i funghi e il salsiccio. Però il salsiccio non mi piace. Non mi piace il salsiccio. E non me lo ha mangiato. No, quindi per te si piace il salsiccio mangiato e i funghi non si piacciono. Noi, i funghi sono buonissimi. Ma pure se non puoi che... Io sono passando sotto. Ho già fatto due cucine. Perché? Io sono passando nella dieta. Ah. Io sono mangiato, ma ho mangiato molto luce. Per i bambini. Buono molto luce. Ho bello. Io credo che quando fai la dieta si può mangiare il pesto. Segui un po' aca. Un morluzzo si può mangiare. Un pesto ti piace o il pesto? Il pesto? Sì. Sì, sì, il pesto sì. A questo no. A me mi piace tutto cosa tranne il salsiccio. Non ci capisci. A me mi piace tutto tranne i salsiccio. E poi? Allora, come si chiama? Ma si appassiona, ti piace? Come si chiama? Come, come? Mi piace. Non mi ricordo. Ah. Perché il pesto ti piace? E dove c'è il salsiccio? Vabbè, che fa? Basta un po' e mangiare. E questa è l'importanza. Brava. Come si chiama? Ah, devo dire il pesto. Non ci manca mai. Ovviamente. E se faccio a tre, faccio pure a dieci. Brava. Basta cadere una mamma come te colare o rimangare. No, il mio figlio non ci manca niente. Eh, lo so, lo so. Si vede. Perché il mio figlio è grosso. Vabbè, è camminata. È stato l'uomo. Ecco, come posso dire. E significa cosa fare una vita buona? Carole mi chiamo. Ah, Carlo. Eh, basta cominciare. Vai, dici. Eh. Fammi una vita buona, come puoi sapere. Vabbè, le fai pure tu TikTok. Ma ne sto facendo. Io? No. Io ne sto facendo. Tu che stai facendo? Sì, le sto facendo. Danna prima, faccio da bubù. Le sto facendo. Ma... E' continuato. Ma... Che dico? Ma domani, dai. Perché volevi sapere se ho Facebook? Dai, mi chiedi l'auto. Perché volevi sapere se ho Facebook? Non c'hai capito, dai. Perché volevi sapere se ho Facebook? No, non c'hai capito. Ah, ok. Tu stai facendo Facebook? Sì, sì. Ho capito. Io so come mi chiamo. Matteo Rosaria. Matteo Rosaria? Dopo ti vado a mandare la richiesta. No, va per Facebook. Sì. Sì. Ho capito. Sì. Che hai detto? Rosaria Bumbu. Rosaria Bumbu, ok. Dopo ti vado ad inviare la richiesta. Va bene, grazie. Ci vediamo, amore. Grazie Bumbu. A disposizione quando vuoi. Ficella? Tu sei? Chi se? Brava, le trovo. e non ci sono più. E io sto a scegliere. Ah, vai giù. Come nella registra da Pono, dalla famiglia. Eh, vai. Voi, voi sapete perché sono buon piggio? Perché io mi chiedi a sera, a sera, a sera, a sera, a sera, ma io mi chiedi a fare buon piggio. mi racconta la cattolica o la vendita americana. Perché vado pure a fare spesso, perché non si fa spesso. Perché non so, a retto i camminati. A me non mi piacciono i camminati. Poi io faccio la diretta un po' pizzano. Io non c'era con nessuno. Se volete parlare conmigo come un po' pizzano, va no, se non volete parlare, va ripetersi. Se volete parlare conmigo, il ca' è stocca. Va, volete parlare o volete parlare. Senza che faccio che domani o pizzano, 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 pizzano. E perché io non posso farci messa. Io non mi faccio così. Io da me faccio vedere con un po' il giro. Guardate, guardate in direzione. Ragazzi, dai, amici. Amici, è un po' il Ho potuto fare, faccio un pochino, proprio la voce che è nata di ciò. Ho potuto fare, ho potuto fare anche un. Perché mangia l'oltre? L'oltre, ho già mangiato con l'oltre e faccio l'oltre. E stai, ho già mangiato con il prosciutto con il bambino. Hai il tuo bambino. Ciao Toni, che ritirai? Siamo qua con il tuo figlio. Non mi può fare. Dove svolgere a te? Toni, dai, faccio le domande. Amore! Buonasera! 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 Come va? Tutto a posto. Chi sei? Io! Mario! Come dicevi? Noi si chiamano Sara. E queste sono le mie bambine. Saluta. Ciao! Ciao Bella! che vi dici di bello mi saluta Peppini il capitano mi saluta Peppini il capitano hai sentito? ricambia non ho capito non ti sento bene ma c'è la casa di Peppino me lo saluti lui mi conosce bene mi conosce me lo passi ah ma la roba Rizzi hai domande in coppia ah dopo ma che puoi sapere? che hai detto? cosa vuoi sapere? fai le domande cosa vuoi sapere? e ti fai le domande e se ti rispondo sei sposata? no se non vedo va ah eh cerchi di nuovo un marito cerchi di nuovo un marito? eh un po' no sì sì Alessandro del Luca dice la parente Alessandro Alessandro dove l'hai fatti? capito cosa vuoi sapere? sei benvenuto a Castellammare? ma come si chiama? Rosario Rosario passami a Giuseppe no non c'è Giuseppe hai domande in coppia ma hai domande in coppia tu mamma hai detto che sei l'occhio eh hai domande in coppia io mi piace il tuo cugino dici dici ti vogliono le due cugino non c'è capito mamma signor un bacio fu sì ciao Rosario ciao Rosario un bis sei lì ciao buona serata ciao grazie buon buon rosario rosario quanto tempo rosario quanto tempo che non ti veda rosario quanto tempo che non ti veda come sta come sta Rosaria a chi sei so Irina ti ricorda di me ah Cecilia so Irina Rosaria ti ricorda di me ah dimmi dimmi Rosario quanto tempo che non ti veda Matteo come sta è pure io a prezzo non ti vedo tu come stai tutto bene Rosario quanto tempo che non ti veda come stai tutto bene ma come diciamo hai trovato marito Rosaria come hai trovato marito a me come dice io ricorda quando tu stava con quello vecchio io ricorda quando tu stava con vecchio ti ricorda quando tu l'ho trovato marito cosa hai detto tu serai marito sì io ho fatto vedere tuo marito quanto tempo è passato io stare a me che ti ha trovato tu mi fa piacere io sto io sto rosaria fammi seccare una scopa rosaria rosaria io sto ancora con Giovanni quello vecchio 68 anni va bene rosaria che mi dici che mi dici di nuovo tutto bene sì tutto a post madonna rosaria tu si fa sempre più bella donna grazie madonna rosaria tu sempre fresca e tosta perché faccio bubù madonna rosaria quanto ride rosaria ti ricordi ti ricorda di me rosaria ti ricordi rosaria ti ricordi quando tu compraste dentiera poi tolta rosaria quanto quanto tempo passato ti ricordi quando io e te andavamo su quattro via rosaria ti ricordi quando io e te quando andavamo sopra quattro via come rosaria stavamo io e te sopra quattro via io ho trovato giù guannone 68 anni pescola ma senti siamo sempre oh siamo sempre ma i tuoi vieni che spitiate che dice Giovanni che dice tu ti c'è eh tu al tuo paese c'è il zottoro con la testa rosaria tu fai ancora quelle cose zuzze tu fai ancora cose zuzze rosario io ricordo di te quando sbattevi come rosario quando sbattevi tu silze rosaria 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 ma il tuo paese c'è un americo sì come c'è sta dottor eh hai fatto il dottor della gente perché tu sei pazza come rosario perché tu mi dici queste cose come ti permette noi siamo amiche rosario rosaria dimmi una cosa rosaria dimmi una cosa ma tu stai ancora con genaro quell'uomo sposato che ti teneva rosario come non ti ricorda di me no non ti ricordo proprio di cazzo che non ti ricordi quando per esempio io venivo a casa tua c'era pure Matteuscio rosario ti ricordi che io giocavo anche con Matteuscio ma come come ti compieta ma non spattivo rosaria come io volea bene Matteuscio rosario io volea bene Matteuscio rosario come tu non ti ricorda di Matteuscio quando ci avevamo 5 3 2 le carte rosario rosario come tu non ti ricorda quando tu prendeva caffè è casa mia madonna rosario io prendo colera così rosario rosario come tu non ti ricorda rosario dove va rosario rosario le rosario mi no le non non non